Signori buongiorno e benvenuti sul canale del Master Kai Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale Io sono un Master del Old School dei giochi di ruolo Mastero da praticamente 20 anni e su questo canale cerco di mettere le mie esperienze quello che io ho imparato in questi 20 anni come Master al vostro servizio per migliorare le vostre abilità Il canale in questo momento è diviso in tre rubiriche principali L'arte del Masteraggio che è quella in cui si parla degli aspetti più pratici di come condurre una sessione trucchi, consigli e tutto quello che io normalmente definisco la scatola degli attrezzi del Master tutti quegli elementi che vi potrebbero tornare utile per gestire le situazioni di gioco in cui potrete andarvi a imbattere quando arbitrate le sessioni per il vostro gruppo le fondamenta del dungeon in cui invece ricadono tutti quegli aspetti più tecnici e teorici che ci sono dietro la teoria del Masteraggio come impostare le quest, come scriverle, come organizzare sessioni ed incontri e almeno per ora il D20 System che è una rubrica specifica che riguarda i giochi che usano come motore il D20 System quindi Dungeons & Dragons, Pathfinder ma in realtà sono tantissimi in cui andiamo a dare un'occhiata un po' più approfondita a questo tipo di meccaniche perché il D20 System rimane comunque il regolamento più diffuso e più applicato e quello che contiene al suo interno la maggiore quantità di giochi di ruolo quindi personalmente ritengo che tutti i Master dovrebbero avere almeno un'infarinatura generale di questo sistema ovviamente questa rubrica non durerà in eterno può darsi che in futuro sarà sostituita da qualche altro tipo di regolamento se dopo aver dato un'occhiata ai video che sono presenti sul canale deciderete di iscrivervi io vi consiglio come sempre di attivare il tasto della campanella per ricevere le notifiche quando escono i nuovi video di chiedermi l'amicizia su Facebook c'è un'account apposta per il canale e nel caso avete domande, dubbi, perplessità o vogliate proporre argomenti o chiedere qualunque cosa che riguarda il gioco di ruolo sotto ogni video trovate una sezione dei commenti su cui vi incoraggio a scrivere per far sapere anche la vostra il gioco di ruolo è collaborazione questo canale non è qui per diffondere me che blattero è qui per creare un gruppo di discussione che spero diventi una discussione importante e significativa sul gioco di ruolo che permetterà a voi di imparare dalla mia esperienza come master ma spero di imparare anch'io dalle vostre esperienze in modo da diventare tutti insieme migliori nell'arte del game mastering io sono il Master Kae spero che il canale vi piaccia nel caso noi ci rivedremo in un prossimo video